Il mio contributo è, diciamo, più orientato sulla vita attuale della vita consacrata, ecco, non sarà tanto un escurso storico, no? Avrei voluto partecipare all'intero convegno per armonizzare l'intervento insieme con gli altri, ma purtroppo questo non mi era possibile e quindi ecco, questo è un limite evidente di quello che dirò probabilmente, ecco. Ma, anzitutto, vorrei tenere presente, da una parte, brevemente, la vita consacrata, dall'altra, i temi affrontati dal convegno, un giardino da coltivare e custodire, la cura della casa comune, per poi concentrarmi su alcuni suggerimenti che ci vengono dall'enciclica papale, laudato sì, e vedere cosa hanno da dire a noi oggi. Chiaramente la vita consacrata offre una ricchezza, potremmo dire infinita, varissima, alla Chiesa ed esprime, nell'esistenza concreta, tutta la varietà della figura del Signore Gesù. Incarnando il Vangelo sotto varie forme, ciascun carisma dei vari fondatori ripresenta al mondo un aspetto particolare del Signore Gesù. E insieme ripresentano al mondo il Signore e la sua totalità. Insieme, non da soli, no? Ecco. E allora vorrei dire qualche piccola nota caratterizzante della vita consacrata, prendendo a spunto quello che è stato l'anno sulla vita consacrata, che ha parlato di Vangelo, profezia e speranza come segni tipici della nostra vita. Sul Vangelo abbiamo, avete sentito ieri, delle indicazioni a partire dalla scrittura, credo saranno state interessantissime, quindi non mi fermo tantissimo, anche se poi riprenderò qualche spunto, ma certamente parlare di Vangelo vuol dire parlare della radicalità evangelica della vita consacrata, quindi una chiamata particolare alla sequela che si esprime nella radicalità. Non che gli altri cristiani siano esenti, no? Ci ricordava la professoressa, siamo tutti chiamati alla santità, no? Ecco, ma certamente è una radicalità che va a toccare delle corde specifiche dell'essere umano e del cristiano. La profezia, la vita consacrata, costituisce nella Chiesa un segno di ciò che già è, anche se non è ancora pienamente realizzato. E collegando questo al nostro tema, vorrei dire che in qualche modo porta luce su quello che è la nuova creazione, cui si è accennato anche nelle relazioni precedenti, e cosa vuol dire oggi il nostro stare nel mondo alla luce della nuova creazione, alla luce dell'escato, no? Degli ultimi tempi, no? Cosa vuol dire per noi oggi? Credo che la vita consacrata deve dire al mondo cosa vuol dire essere tesi verso una creazione nuova. E poi la speranza. Certamente i consacrati sono, per definizione, portatori di speranza in un mondo che di speranza ha estremo bisogno, vero? Ecco, e questo direi lo fanno sempre in relazione al nostro tema, soprattutto con l'annuncio, che dovrebbe essere evidente nella loro vita, di una terra libera e indivisa. Nostalgia delle origini, se vogliamo, no? Una terra libera e indivisa, presente universalmente nel cuore dell'uomo e della donna di ogni tempo. Ecco, profezia di un regno futuro che sarà libero e indiviso. Allora si potrebbe vedere come oggi lo diciamo al mondo che mi sembra che ne ha tanto bisogno. Brevemente, perché appunto non vorrei superare i limiti del tempo, applicare questo ai temi che ci sono proposti, no? Un giardino da coltivare e custodire, la creazione, la natura, il creato come giardino. Certamente la metafora del giardino rimanda anch'essa, da una parte, alle origini. Il giardino dell'Eden. E dall'altra, al compimento finale, Paradiso è ancora una volta parente di giardino. Luogo dove convivono tanti fiori, tante piante, luogo a meno, luogo dove tutto è in armonia. E certamente per la nostra sensibilità di cristiani del ventunesimo secolo, vedere il giardino come una pluralità di identità, in piena armonia tra loro, dice tanto. Soprattutto alla luce degli ultimi, degli spunti che ci vengono dal concilio in poi, sulla comunione ecclesiale, la comunione tra fratelli, tra sorelle, chiamata essere icona della Trinità. Tanti carismi nella vita consacrata, tante bellezze, donate a ciascuno per la gioia e per il bene di tutti, come tante note di una magnifica sinfonia. Le consacrate e i consacrati, sì, e tanto quanto vivono già ora, nel tempo, questa realtà di carismi in comunione tra loro, non ciascuno solo il proprio carisma, non è questa la vocazione della vita consacrata, ma in comunione, allora sono veramente profezie evangelica di cieli nuovi e terra nuova, segno di speranza certa, che guida il cammino dell'uomo. Come in un giardino i fiori sono in armonia, così i carismi in armonia, gli uni insieme agli altri, sono profezia. Potremmo anche considerare al riguardo una certa specificità per la vita consacrata declinata al femminile o al maschile. E mi piace vedere, così è una suggestione, ma una suggestione che pur limitata però può dar adito ad approfondimenti, secondo me, interessanti. Certamente senza voler cadere in banali semplificazioni riguardo alla mascolinità e alla femminilità, che è in realtà molto complessa e molto da approfondire, no? Ma mi piace vedere più il contadino che coltiva il giardino declinando la vita consacrata maschile. Il contadino impegnato in un lavoro puntuale e attivo, paziente e costante, per affrettare la venuta del regno dei cieli. La consacrata come lei, che è soprattutto custode, custode del giardino, di riminiscenze bibliche, no? Se vogliamo. Custode del recinto del giardino, cioè si occupa di quella dimensione del regno che è già presente in mezzo a noi. Funzione questa della custodia, forse ancora più importante della prima, poiché è solo a partire dalla presenza del Signore nella storia di oggi che si può preparare la via perché egli venga. Ecco, questa della custodia, di custodire qualsiasi cosa di buono oggi è presente nel mondo, mi sembra una vocazione tipicamente femminile. Non unicamente femminile, per carità ci mancherebbe. In ogni essere, in ogni persona, c'è una dimensione maschile e femminile. Però è più tipica della donna che custodisce, che accoglie, che genera. Sarebbe bello anche vedere poi il nostro lessico, perlomeno italiano, no? con tanti nomi al femminile che indicano la terra, la creazione, la natura, oppure come ci si occupa di essa, la casa, l'abitazione, o anche alcune dimensioni valoriali, no? Le virtù sono tutte al femminile. La conoscenza, la sapienza, le dimensioni intellettuali sono al femminile. Allora, ecco, questo per dire che il genere maschile o femminile ha qualcosa di importante, di profondissimo da dire, proprio basato sulla essenza più naturale delle cose, ma ha qualcosa di profondissimo da dire alla vita consacrata e al regno dei cieli. Perché anche il regno dei cieli non ci si sposerà, ma ci sarà il maschile e il femminile, no? Ecco. Allora, coltivare e custodire possono esprimere atteggiamenti distinti e complementari che parlano di una diversità, di una complementarietà che è scritta nella carne di ogni uomo e di ogni donna, nella sua psiche, nel suo animo e anche nel suo spirito. Ogni volta che consacrati e consacrate vivono questa loro identità nel dono reciproco, allora si realizza anche qui un bozzetto reale di nuova creazione, anticipazione e insieme presenza del regno che verrà. Si delina così il compito dei consacrati nel rendere sempre più bella la tendra e difenderla da ogni pericolo, custodirla. Io direi anche a partire dal proteggere quella dimensione della vita che continuamente e universalmente si apre a generare, a dare nuova vita nella distinzione e nell'unità del maschile e del femminile, dei livelli più elementari della vita vegetale per risalire poi a quella animale e a quella umana. Non c'è vita senza differenza, non c'è vita senza maschile e femminile a partire dalle piante, la creazione ce lo dice continuamente. Adesso qualche parola sulla cura della casa comune e vorrei collegare questa espressione casa comune al senso della fraternità oggi nella vita consacrata. Questa parola fraternità certo che non vuole esprimere solo un concetto astratto ma che poi non si sa come deve concretizzarsi, no? Ma indica la realtà di fratelli e sorelle che effettivamente abitano una casa comune, abitano una stessa casa e si sentono effettivamente e direi affettivamente fratelli e sorelle. Se allora una casa comune è quella abitata da fratelli e da sorelle vuol dire che la cura della casa non si può fare da soli. Bisogna farla insieme ai fratelli e alle sorelle. Da soli è impossibile. È impossibile prendersi a cuore la casa nella quale si vive insieme se non in modo armonicamente coordinato con tutti. O si cerca e anzitutto si chiede al buon Dio l'unità di cuore e di intenti di programmazione e di azione concreta o è chiaro che la cura della casa comune rimane una mera utopia. non si farà mai. Per questo è bello seguire i cerchi concentrici della fraternità come un sasso che si getta in uno stagno d'acqua fa dei cerchi concentrici a partire dalle persone con le quali si vive più strettamente a contatto per la comune vocazione in una comunità in una comunità religiosa in una comunità cristiana. l'essere fratelli e sorelle è chiamato a espandersi via via di più fino a raggiungere tutti non siamo fratelli e sorelle semplicemente delle persone con cui viviamo o le persone della nostra congregazione siamo fratelli e sorelle di tutti. L'unità allora che realizziamo nella nostra piccola realtà quotidiana è destinata a fare famiglia con tanti altri in maniera sempre più allorgata fino a raggiungere l'universalità in fondo se guardiamo all'unità che vuole il Signore questa non può essere se non c'è universalità un'unità che esclude è un'unità che non è quella del Signore per cui dal movimento centripeto che ci fa andare nella carità gli uni verso gli altri all'interno del nostro piccolo gruppo della nostra più piccola famiglia a quello centrifugo che ci fa portare a tutti quell'amore che vogliamo vivere tra noi come dice il Signore che siano una cosa sola perché il mondo creda una cosa sola è dono di Dio ma è destinato a essere segno per tutti non solo per alcuni per cui il servizio al bene di tutti nella casa comuna è possibile solo insieme solo presentandosi alla Chiesa e al mondo la vita consacrata nel suo insieme come passatemi la parola spero di non scandalizzare un'unica grande famiglia sarà che io sono influenzato da questo perché sono nato sono francescano sono nato cresciuto e ho scoperto la vocazione in una parrocchia di padri claretiani e sono stato a scuola dai fratelli delle scuole cristiane e tanti altri religiosi ho incontrato poi il signore ha voluto così che cercassi quelli che ancora non conoscevo ma non lo so perché stimo moltissimo i frati claretiani devo tantissimo loro ma sento tanto che c'è una realtà della vita consacrata che non è chiusa solo nell'ambito del proprio carisma un carisma è tale è veramente tale è veramente dono di Dio se è dono per tutti e quindi tutti in dono per tutti il carisma francescano è per tutta la Chiesa ciascun carisma che voi portate è anche per me per tutta la Chiesa adesso vorrei appunto affrontare il discorso del contributo che la vita consacrata può dare a una ecologia integrale e qui faccio riferimento al capitolo della Laudato Si di Papa Francesco che ha questo stesso titolo questo stesso nome per un'ecologia integrale e certamente non vorrei riprendere così come sono le tematiche dell'enciclica che immagino che siano anche note almeno nelle sue linee generali ma vorrei cogliere alcune provocazioni che nascono per noi a partire dall'enciclica anzitutto Integrale dice che l'ecologia il discorso sul luogo che noi abitiamo il discorso sulla casa comune è chiamato a essere integrale per cui un principio olistico di globalità che prende la realtà nel suo insieme è imprescindibile non se ne può fare a meno solo considerando la totalità della geografia tutto il mondo tutta la terra e delle dimensioni della vita vita umana animale vegetale vita ambientale dell'ambiente in cui siamo la vita del pianeta terra la vita del cosmo oggi si parla anche di spazzatura spaziale che sembra sia un grande problema anche quello è un tema ecologico ecco si guarda alla totalità nelle ripercussioni che essa ha a livello particolare e a livello generale a livello locale e a livello planetario oppure non possiamo prenderci cura della casa comune perché se ci prendiamo cura solo di un particolare ci sfugge il resto che pure sul nostro particolare ha influenza oggigiorno apparentemente è presente questa attenzione che in realtà tuttavia sembra almeno apparentemente prendere la strada di una globalizzazione di tutt'altro genere centrata sull'economia e sull'economia intesa nel senso più basso e meno nobile cioè in termini di mercato di guadagno personali di danaro indubbiamente questo mina alle radici la cura del creato che viene assoggettato a interessi egocentrici ed egoistici fatto schiavo di padroni che lo tiranneggiano è un po' la situazione che rischiamo in cui rischiamo di cadere sempre di più allora ci sovviene la domanda come invece essere fratello e sorella una cosa sola con tutti gli uomini e le donne del mondo e con il creato nel considerare questa domanda mi scorre il pensiero agli scritti di un grande antropologo del secolo scorso Victor Turner egli in suo noto saggio simboli e momenti della comunità traccia a partire dalle sue osservazioni di carattere strettamente antropologico quindi non confessionale l'identità di colui che è il fratello universale e coglie il cammino che porta a divenire fratello e sorella di tutti neanche a dirlo tanti degli esempi che lui cita fanno riferimento a consacrati e consacrate delle grandi religioni in genere e poi in particolare della chiesa cattolica scusate che mi viene da citare San Francesco ma non è per speduto di parte no? ma è perché lui stesso ne parla nel suo testo ecco significativa è una sua espressione che mi sembra tanto in linea con l'ecologia integrale auspicata da Papa Francesco dice così in un certo senso quando l'uomo non fa più il padrone dell'uomo e ne diventa un uguale o un compagno non fa più nemmeno il padrone degli esseri non umani e diventa un uguale o un compagno anche nei loro confronti allora mi sembra che qui l'integralità si vede molto bene cioè o siamo fratelli fra di noi o non possiamo prenderci cura della casa comune è impossibile non possiamo sentire fratello e sorella la creazione se non sentiamo fratello e sorella le persone non si dà sorvolo sul fazzo come Tarnan arriva a far vedere questo perché non abbiamo il tempo ma se avete possibilità andare a vedere questo libricino molto piccolo ma interessante simboli e momenti della comunità Victor Tarnan ecco allora per avvicinarsi a quanto esprime l'enciclica papale vediamo come Francesco rifacendosi al cantico delle creature si preoccupa per l'appunto di tenere insieme le dimensioni umane e sociali del discorso e della prassi concreta sull'ecologia dice il Papa la nostra casa comune è anche come una sorella con la quale condividiamo l'esistenza è come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia e ci dice il cantico l'ha dato sì mi signore verso la nostra madre terra e lui porta San Francesco come esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di un'ecologia integrale in noi si riscontra fino a che punto sono in sé paraboli la preoccupazione per la natura la giustizia verso i poveri l'impegno nella società e la pace interiore San Francesco chiamava le creature col nome di fratello e di sorella pieno di stupore per la loro bellezza sembra di riecheggiare i padri i padri orientali no? sembra o anche il monachesimo di cui ci ha parlato la professoressa e lui le clerque un nome indimenticabile per noi francescani nel suo bellissimo La tenerezza del padre fa dire a San Francesco delle parole di sapienza poetica che vorrei leggervi brevemente dice il padre che è nei cieli disvelerà a voi il segreto del mondo vi mostrerà come tutto sussiste con forza coesiva nella creazione è San Francesco che parla San Francesco che parla ai suoi in ciò che è piccolo e semplice intuirete l'infinitamente grande potrete intravedere in ciò che appare basso e oscuro l'aurora del regno e ancora perché l'unità già esiste ed è una realtà più grande di noi essa costituisce la realtà più profonda della creazione si costruisce non agendo contro ma agendo con e precisamente con tutto ciò che Dio ha voluto vale a dire con tutto ciò che è si incontra dappertutto ad ogni passo l'unità è grandiosa inesplorabile splendente per avvertirla basta fare attenzione alle creature soprattutto alle più semplici e alle più piccole con umiltà con pazienza con sommo rispetto ecco allora queste parole ci fanno vedere la creazione come un grande mistero d'amore come un dono continuo che Dio fa a me a ciascuno di noi ad ogni persona chiamata insieme a tutte le altre a questa unità universale oggi la creazione si presenta a noi come fragile bisognosa aspetta da noi uomini e donne del ventunesimo secolo che facciamo tutta la nostra parte ecco non vorrei sconfinare nel tema di domani ma in qualche modo il mio intervento un po' lo anticipa ecco questo nostro compito è scritto negli elementi stessi del creato a ben vedere che incessamentemente si compongono tra di loro con un'immensa armonia in perenne crescita potremmo dare il nome a questa perenne crescita in cui tutta la creazione è impegnata come un insieme verso l'alto a partire a partire dalle proprietà emergenti dall'incontro tra le particelle più elementari dell'universo via via su fine la scala biologica l'evoluzione di tutto il cosmo ci appare come un destino inarrestabile scientificamente studiabile che ha come termine la trasformazione e qui entra la fede di una realtà in Cristo origine e fine del creato a noi sta il non arrestare questa evoluzione scritta già nella natura e portata avanti dall'opera dello Spirito Santo anzi il collaborare attivamente con questa evoluzione l'icona che su tutte si staglia modello di questo nostro marino già è stata citata di questo nostro cammino è stata citata è quella di Maria ella vergine madre racchiude nel suo seno il mistero di tutta la Chiesa e in un modo singolare della vita consacrata lei la piena di grazia ricolma di ogni dono del Signore la carismatica per eccellenza accoglie in sé e compone in armonia perfetta ogni carisma che Dio dona alla Chiesa attraverso le e i consacrati non solo attraverso di loro certamente ma vogliamo concentrarci su questo è lei la creatura perfetta la creazione che nel suo continuo elevarsi verso il suo creatore raggiunge il suo vertice l'uomo e la donna sono universalmente considerati come il vertice del mondo creato e così sono presentati anche dalla scrittura a partire già dalla Genesi e proprio il loro sangue attraverso le generazioni antiche e il loro progressivo cammino incontro al Signore ha infine generato la creatura per eccellenza quella che finalmente è stata in grado di accogliere in pienezza il dono di Dio la donna vera Maria in lei la creazione e l'umanità trovano il suo culmine lei apre la porta all'irruzione piena dello spirito di Dio in ogni uomo e in ogni donna e attraverso l'uomo e la donna nel creato San Paolo ricorda la creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio in lei cieli e terra nuova sono già realtà una testimone dei nostri giorni Chiara Lubic lo esprime in forma che sa anche qui di poesia Maria è la sintesi della creazione intera al culmine della sua bellezza quando si presenta come sposa al suo creatore Maria è il fiore fiorito sull'albero dell'umanità nato da Dio che creò il primo seme in Adamo è la creazione che va in fiore la creazione che va in bellezza tutta la creazione fiorita come la chioma di un albero è Maria dal cielo Dio si innamora di questo fiore dei fiori l'impollina di Spirito Santo e Maria dà al cielo e alla terra il frutto dei frutti Gesù sono semplici parole da cui per ora vediamo come tutta la realtà in cui siamo inseriti che fa parte del nostro quotidiano a ben vedere con gli occhi della fede con gli occhi della nuova creazione tutta la realtà è cosa sacra e ha diritto a tutto il nostro rispetto come si diceva Pocanzi Papa Francesco parla di diversi aspetti ho ancora cinque minuti dell'ecologia integrale parla di un'ecologia ambientale economica e sociale e lì per noi della vita consacrata viene un po' a balzare agli occhi la beatitudine dei poveri di Spirito per definizione la vita consacrata è del tutto aliena quanto nel Vangelo viene chiamato Mammona l'idolo forse per eccellenza per eccellenza di ieri di oggi di tutta la storia un idolo che seduce e illude per poi distruggere singoli gruppi popoli coloro che sono detti grandi in questa terra sono tra le sue prime vittime più si è grandi più si è preda di questo idolo se non si sta attenti ma in fondo nessuno è totalmente esente dal suo potere ammaliante i consacrati e le consacrate per vocazione mettono sul moggio la parola evangelica in uno stile di vita sobrio soprattutto per quanto riguarda l'uso del denaro e uno stile di vita dedito ai piccoli di questa terra cito ancora Turner che dice il principio è semplice cessa di avere e sarai allora ci si ama gli uni gli altri Papa Francesco parla di un'ecologia culturale e anche ultimamente ha detto questa frase le colonizzazioni ideologiche e culturali cancellando le differenze fanno il peccato bruttissimo di bestemmia contro Dio creatore bestemmia contro Dio creatore perché si vuole cambiare la creazione come l'ha fatta lui e offre il modo di reagire a questa bestemmia c'è soltanto una medicina la testimonianza cioè il martirio nota anche questa tipica della vita consacrata se ricordiamo che in fondo nasce storicamente soprattutto si diffonde soprattutto quando vengono meno le persecuzioni allora vita consacrata testimonianza e martirio credo che siano strettamente connesse non approfondisco ma mi sembra un'analogia non peregrina siamo chiamati a essere a dare la nostra martiria la stessa vita virginalmente donata in fondo per il mondo di oggi è talmente un controsenso che è una vera e propria martiria Papa Francesco parla di un'ecologia della vita quotidiana e lì viene da pensare alla preziosità dei piccoli gesti ripetuti ogni giorno è la forza dei deboli si può pensare a San Paolo si può pensare ancora una volta a Turner che parla del potere dei deboli che giorno dopo giorno trasforma l'ambiente in cui viviamo in una fedeltà fatta di fermezza e di costanza e il potere dei deboli è proprio quello che rappresenta la terra non divisa la terra di tutti il principio del bene comune è importante per Papa Francesco e qui siamo messi davanti all'alternativa che i latini dicevano tra mors tua vita mea o mors mea vita tua cioè per vivere io faccio venire meno la vita tua o per far vivere te rinuncio a qualcosa della vita mia il senso del sacrificio in sintesi è essenziale per il bene comune e i consacrati nel loro dono di sé sono impegnati per definizione in una missione per gli ultimi e ci vuole sacrificio per questo ci vuole rinuncio e a scoprire ogni giorno nella loro vita la missione degli ultimi nei loro confronti perché sono proprio loro che ci provocano a vivere una vita sempre più evangelica sono proprio loro che ci insegnano ci fanno da maestri infine Papa Francesco in questo parlando di ecologia integrale parla della giustizia tra le generazioni e anche qui si tratta di scegliere tra il dare la vita nostra per i fratelli che verranno o sottrarre loro le possibilità di vivere in modo umano consegnando loro una terra devastata dalla nostra avidità vorace a ben vedere queste tematiche che abbiamo detto sottrarsi a mammona e al suo potere devastante dare testimonianza trasparente al Vangelo contro ogni egemonia culturalmente deviante contare sulla forza dei deboli sul senso del sacrificio e sulla dedizione verso chi verrà dopo di noi hanno molto a che fare con il dono di sé per amore caratteristico della vita consacrata con i suoi voti di povertà castità e obbedienza che dell'amore sono espressione concludo con delle sfide comuni che ci sono poste davanti e che in qualche modo aprono già alle tematiche di domani una direi possiamo dare il nome a questa sfida come da soli non si può cioè queste sfide comuni vanno affrontate insieme questa è una provocazione e un rischio anche perché o affrontiamo queste sfide insieme o non riusciremo ad accoglierle e insieme vuol dire in un'azione congiunta tra consacrati e consacrate da soli non ce la faremo ad affrontare problemi così vasti in un'azione congiunta con i laici a partire da quelli che condividono con noi il carisma dei nostri fondatori delle nostre fondatrici l'identità carismatica non è qualcosa che uno deve trattenere per sé e tenere sotto una campana di vetro no ma è qualcosa che è chiamata entrare in armonia con tutte le altre identità carismatiche un'identità a partire dal bambino piccolissimo nasce e cresce solo all'interno di una relazione mai senza una relazione un'altra sfida è quella di non pensare solo al proprio orto non guardare solo la propria missione un po' centrati su di sé in fondo non sarebbe neanche una missione poi se guardiamo bene ma a partire da un progetto comune e sappiamo che è un po' o una rivoluzione per la vita consacrata questo oggi anche questa decisione implica una violenza evangelica per staccarsi da ciò che è proprio per costruire ciò che è condiviso significa ancora liberare forze forze nuove vuol dire ridurre alcuni fronti per aprirne altri più impegnativi e importanti anche qui significa accettare di ridurre il proprio per dare vigore all'azione comune nell'ottica evangelica del perdere qualcosa per trovare la vita vera e un'ultima domanda chi ci guiderà in questo cammino ci vogliono delle guide e questa domanda si fa un appello alla vita consacrata e anche alle istituzioni ecclesiali perché certamente questo cammino prende vigore dai tantissimi che in maniera invisibile lo percorrono giorno dopo giorno ma ha bisogno anche dei responsabili delle guide che indicano una direzione precisa a favore di un'ecologia integrale nel recente incontro dei vescovi in America Latina sulle laudato si si è parlato di una chiamata urgente per credenti e non credenti per tutte le persone che abitano in questo pianeta un appello urgente per la conversione ecologica che coinvolge tutti gli aspetti della vita degli esseri umani per vivere in armonia con gli altri esseri del pianeta tutto ciò e portare avanti ciò attraverso esperienze concrete e testimonianze di vita metto in corsivo io è essenziale dicono i vescovi per il futuro della chiesa è una conversione che ci è posta davanti vuol dire che non c'è già questa realtà bisogna crearla e dobbiamo crearla noi ecco a questo punto sarebbe bello parlare delle esperienze che già esistono a questo riguardo proprio perché è a partire da quello che già c'è che si può progettare il futuro ma sarebbe lungo e magari se avrò possibilità lascerò queste esperienze allo scritto grazie dell'ascolto